Amici chitarristi, buon pomeriggio e ben ritrovati in questa serie di mini video Art Jazz per Tutti. La mia accademia di chitarra jazz che riaprirà solo dal 18 al 28 maggio. Vorrei rispondere alla domanda di un utente che mi chiede se ci sono dei tempi di acquisizione specifici oppure se è possibile usufruire del materiale liberamente. La risposta è no, non ci sono dei tempi di acquisizione specifici per cui una volta entrati in accademia è possibile usufruire del materiale 24 ore su 24 da tutti i dispositivi e con i propri tempi. Vi aspetto!